Salve signor fedele! Tu riprendi tutto, riprendi tutto! Foratura! Escilo! 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 E' uscita la ruota! Non è che poco poco disavano i guanti di plastica? Allora, vieni a vedere il colpevole! Colpevole, colpevole, colpevole! Eccolo! Eccolo qua il colpevole! Eccolo qua il colpevole, si vede? Si vede, si vede! Eccolo qua il colpevole! Quanto basta? Eccolo! Guardalo! Non servono! Sarà forte i 40 anni! Eccolo! Aspetta che qua documentiamo tutto! È stato russato! È stato russato! No, le usavo a lasciare noi, come non le usate! Quanto li ricordi? E li comprai quando andremo in suddittura! Questo passaggio qua è importante, eh? Spiegalo! Allora dobbiamo stallonare Peppo. Usa il cavalletto tuo dai, togli il casco. Alza questa moto. Qualcuno calzi la moto. Che stai facendo? Dovamo stallonare. Vai, vai, vai. Ok, ok. Scendi. Spingi, spingi. Vai, vai. Grande. Alza. Vai, vai. Alza. Ma io sotto il cavalletto quella cosa l'ho fatto montare, l'ho fatto saltare apposta. Lo stai notando. Io ti ringrazio. Alza. Vai. Grazie, vai. Per forza perché sei sdericato. Grazie, vai. Vai. Grazie, vai. Con un po', andiamo. Ok. 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 Aspetta, aspetta. Vai. Aspetta, aspetta. Aspetta, solo una parte? Vai. Sì. Vai, vai. Ma di coraggio, vai. Aspetta. Vai. Ok. Vai. Stati imparando tutti, no? No, tu lo volevi imparare. Lo bastardo. Che culo. Altro giorno me l'ha detto. Tu lo buttate. Quando ci siamo fermati. E perché non gliel'hai fatto fare a lui così imparava? Quando ci siamo fermati. Quando noi stavamo là dentro, lui è rimasto fuori dall'arpadotto. L'ho messo. Ok. Ora c'è un altro passaggio fondamentale. Togliersi il giupino. Togliersi la giacca. Chiude le tasche. Perché anche se non sembra, è un processo faticoso. Sì. La canzone faceva. E meno male che c'è Riccardo che da solo giocabiliardo. Adesso viene cambiata. E meno male che c'è Daniele che si porta pure le leve. E meno male che Silvio che c'era fuori. E poi le sigilla. Le sigilla. Le sigilla. Guardate cosa si porta dietro. Guardate cosa si porta dietro. Quante leve sono? Quattro. Ho vogliato cinque. Non lo buttare. Cioè nel senso, buttalo in tasca. Non lo buttare. Non lo buttare. Non si inquida. Non si inquida. Non si inquida. Ah. perché questo La metà è l'ultima uscita di questa moto, poi la mandi via, bravo. Giusto, almeno da rompere i coglioni. Però potrei venderla con nuova camera d'aria. Ma ti stai sforzando, non ha nessuno di noi una camera d'aria. No, è già regalata. Io a casa vedo. No, no, ma ce l'ho pure, non la puoi spottare. E' bello, sto avanti, vedo. Venga, torna. Grazie. L'ideale per cambiare la camera d'aria. No male che c'è Riccardo. E' da solo, da capigliardo. E' di grande compagnia. E' quasi un patico che ci sia. Non mi sembrava, no. Non mi sembrava, no. Oh. 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 con la macchina è impossibile glielo mandi dici era impossibile come vedi la ragazza a vedere il vuoto, la miraglia della zonca, anche i ragazzi, è uscito a loro rotto, toglie le petane, lo spiega bene, no, stranzalto, stranzalto queste cose non hanno più voglia, è una bella volta, ma adesso c'è questa cosa, questa cosa, come può essere la tua, o come può essere la tua, la tua bella perché è da battaglia, che può essere grande, che è la bella, questo piano è il 2005, che esiste da quanti anni, uffa, calda, ricordi quando mi facessi fare 20 km volavo, e noi devi fare più di 100 per ritornare, che arriva da Presic, io l'ho fatto con l'interiore bucato, con l'interiore bucato, con l'interiore bucato, è la lezione, no vabbè, mi hai sfuggito, non sono riuscito, non c'è della sua ruota, e poi arrivi a casa sua, arrivi a me molto, sì, per mantenere l'interiore paline, camera d'aria, grazie, Sì, sì, ma bisogna aspettare che vulcanizzi, qua c'è scritto 18, Ragazzi, non per dire, ma oggi abbiamo fatto un'uscita tranquilla, e come tutte le uscite tranquille, qualcuno so, fora. Magna paschetta? Ho messo le mitas, perché le ho tenute montate, le 08, che mi hanno fatto una parte, fuori prossimo, Magna paschetta? Tipo queste, e mi sono piaciute le tante, spiega, Dani, spiega, niente, bisogna centrare la valvola nel buco, bisogna centrare il buco, insomma, 50 su strada, Accetto battute? E ragazzi, fate qualche foto pure, Stefano, Fai qualche foto, se vuoi fare le foto, Fai la foto con Daniele, con lo sfondo della masseria, Con lo sfondo, con lo sfondo, Con lo sfondo, con lo sfondo, La masseria è qui, Mi dai il dadino che l'ho preso, il dadino? Il panino, il panino. Una volta centrata la valvola nel buco del cerchio, Si è andata divertendo a dirmi, vai, 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 no? No, infatti, non so quanto ti abbiamo preso in giro, Eh sì, ma lo stanno notando, Ma si sente anche fuori dall'interfono, No, non so, E' mica giù all'interno. Oh, te risate, Quando ti ha detto, scusa, Ma dove abiti? E non lo so, E siamo morti, te risate! Quando Daniele ha detto, Vabbè, se fossi andato, Siamo davanti a casa, Ah sì? In quel posto, sulla sinistra, C'è un piccolo ruscello, Che si collega con quello che avevi visto tu. Senti, ma da qua non vi ricordate Una salita bella che abbiamo fatto, Sì, una salita bella, Quella che abbiamo fatto, No, ma non ti vediamo li voi andate tu? No, la salita in fuoristrada era. No, 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 no. Non siamo mica in Africa? Non è che non possiamo tornare qua, che sono? Eh, no, 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 no. Se vogliamo andare là, Andiamo se... Ah, la so, E' stata tante, Non facciamo fuoristrada, Magioni. A me non mi interessa dove. Non facciamo strada però. E lasciatelo perdere, per favore. Io non so quanto testiamo, Quanto testiamo dalla pista panese? Eh, qual è? Riesco ad arrivare tutti, no? Se no lo prendiamo dalla strada di Maruggio. Eh, se no lo prendiamo. Se no lo prendiamo. Se no lo prendiamo. Se no lo prendiamo. Eh, no. Se no dobbiamo fare Maruggio. Entra. 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 Non penso proprio. Non penso proprio. Anche se riusciamo ad arrivare... La problematica è nata. Non penso proprio. E poi si passa dentro la capa. Passavamo da dentro la capa, eh. Ma domani non c'è niente da parte. 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 Eh, ma come ho sudato a te per i metti in prova? Eh, mi son tolto la giacca apposta. Allora, un attimo. Metti i propri piedi qua. Non schiaccia bene qua. Grazie, grazie. 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 Sì. Un quadrato. Non pensavo... Eh, te l'ho venuto. Spero di sì. L'altra volta eravamo usciti, eh. Ci eravamo fermati in mezzo in campo. Pioveva, eh. Che lui si era bloccata la gomma. Io vado tranquillo, apro, così bevo. Si era bloccata la gomma e mi sono intuicato. E mi sono affogato. E ti sei pure? Cacuto. Vabbè, quella non vale. Quella non vale. Pure il video. Una mano ho già messa. Grande Danilo! Una mano, ma quella giusta. Ora dobbiamo sperare che il compressore si sia caricato. Vabbè, ma eventualmente suoniamo al signor non ce l'avranno. Ma c'ho tutto per conferire. C'è il compressore. Non c'è tutto. C'è che c'hai la pompa. C'hai la pompa? C'ho anche la pompa, sì. C'ho due. Ma c'ha me il dono. Oh, quanti... Non c'ho mai la pompa. Fai un stupor, non c'ho. Un stupor, non c'ho. Noi. Le brano, non c'ho più. Saluta!